Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi sono uscite le SBC di Aloyran Golaso, ma soprattutto quella di Vinicius Potm. Ce le andiamo ad analizzare per bene perché ci sono dati positivi e negativi su entrambi i giocatori. Li ho testati e vi dico cosa ne penso. Partiamo da Vinicius Potm, un giocatore che quando andiamo ad analizzare su quello che è la base del giocatore rilasciato non notiamo delle particolari differenze, visto che è un giocatore che si presenta con 5 skill e 4 di piede debole quindi il canonico si presenta con un alto alto e il classico, ovviamente, 1,76m quello che inizia a variare è innanzitutto quello che è il ruolo di partenza perché questo Vinicius può fare la TT, le S, la T e la S. Un'altra cosa che ovviamente cambia rispetto alle altre versioni sono i Playstyle Plus perché il razzetto che ha questo Vinicius è comune alle altre versioni però invece del Trickster presenta la Tribela Plus. Se poi andiamo ad analizzare invece quelli che sono gli altri Playstyle in realtà non troviamo questo grande parco perché abbiamo sì il rapido ma nella versione base le giocate di classe che non servono a nulla il primo controllo che serve a poco il pallonetto che non serve a niente e il tiro a giro non plus che serve ad ancora meno. Parliamo del classico Vinicius molto veloce, per carità di Dio che schilla molto bene che pecca magari leggermente nella finalizzazione vista la potenza di tiro ha dei buoni passaggi ma neanche dei passaggi incredibili visto che ha 83 di corto e 80 di lungo ovviamente è un giocatore molto agile palla al piede visto il 96, visto l'88 di reattività il 92 di controllo palla, il 94 di dribbling però è un giocatore che pecca di freddezza visto che ha 81 poi la resistenza è 89 quindi è un parametro ovviamente da top però questo è un SBC che va a costarvi praticamente 1.200.000 crediti 1.200.000 crediti che non sono affatto pochi nella misura in cui noi abbiamo altre due versioni di Vinicius ovvero la menzione d'onore e quella a tono che a livello statistico sono superiori alla versione POTM e soprattutto per quanto riguarda il livello dei playstyle non è che abbiamo questa grande differenza perché qui abbiamo sì il trickster che è un po' inutile ma sappiamo bene che le trivele sono state nerfate quindi risultano inutili anche quelle mentre sul tuono abbiamo solamente il razzetto ovviamente cambiano anche i playstyle perché per esempio il tuono ha anche il tiki-taka ha la batteria questo qui nella sua menzione d'onore invece vi ripeto ha la trivella bianca e il trickster dorato mentre questo qui POTM manca di quello che è ad esempio il tiki-taka e la batteria se andiamo ad analizzare poi il prezzo sul mercato il menzione d'onore costa più o meno un milione e quattro e il tuono costa più o meno un milione e mezzo per cui anche a livello economico diciamo che la differenza non è immensa e con gli ultimi due vi ritrovate comunque tra le mani due giocatori scambiabili che potete andare a sostituire quando magari volete andare a fare degli upgrade alla squadra invece questo Vinicius qui ve lo sbloccate vi rimane sul groppone e onestamente io non mi sento di consigliarvelo perché lì a sinistra comunque tra un bappè cose varie un po' di alternativa c'è o comunque con versioni di Vinicius stesso io eviterei di impegnare un enorme quantitativo di fodder su questa carta qui quindi onestamente me lo aspettavo un poco meglio e lo boccerei ma veniamo adesso a quello che è l'altro grande protagonista di questo video ovvero Saed Alohairan nella sua versione SBC Overall 90 un giocatore di 1,84 m 5 di skill e 4 di piede debole con piede preferito il mancino parte da attaccante destro ma può fare la punta il CC e LD quindi tantissime posizioni per poterlo ibridare il costo di questa SBC è più o meno di 650.000 crediti e quindi già qua abbiamo un giocatore che si va a inserire in un ruolo quello di esterno destro dove c'è una grande carenza di giocatori validi soprattutto su quella fascia di prezzo lì mi viene in mente praticamente solo la Hansen tra il Blazers come giocatrice veramente valida quindi va a riempire un bel buco dove appunto grosse alternative non c'erano abbiamo tra le mani un giocatore che è incredibilmente veloce sia con lo speed boost quello classico e con le 1 corsa sia con i doppi passi ha quella classica animazione che butta il corpo in avanti per quindi prendere ancora più campo e poi essendo comunque anche abbastanza fisico è difficile che arrivi l'avversario a sradicargli il pallone tra i piedi finalizza anche discretamente bene soprattutto nei tiri da fuori visto l'82 di potenza tiro che magari fa un po' più fatica all'interno dell'area di rigore questo però è un problema che può essere tranquillamente soppiantato se andate ad utilizzare il timed finishing che è sempre una mano dal cielo che in questi casi ci viene a dare una mano passaggi che sono ottimi sia il corto che il lungo mi ha un po' perplesso l'agilità palla al piede quindi con i micromovimenti nonostante abbia 90 di agilità 86 di reattività 89 di controllo palla evidentemente appesantito da quell'80 di forza e soprattutto dal 1,84 visto che questo è l'overending game comunque dotato di una bella presenza fisica ha 92 di resistenza quindi anche qui molto bene a livello di playstyle non ne ha tantissimi ma ha quelli giusti perché partiamo dal playstyle plus del tiro a giro ragazzi questo ha dei tiri a giro clamorosi mi fate la quinta skill che gli hanno messo solo a più scoop turn rientrate e tirate a giro praticamente la sua signature move tipo lo step back di James Harden quindi assolutamente top questa combinazione poi ha il rapido che quando andate a correre con la palla tra i piedi gli permette di rimanere un po' più attaccata e quindi questo in dribbling è molto efficace il razzetto per compensare il fatto che rispetto alla versione 93 non abbia 99 di velocità e poi ha il passaggio filtrante e il tiki-taka onestamente l'ho provato con cacciatore proprio full ignorante per boostare velocità e tiro mi sono trovato benissimo secondo me lì a destra è un must-have clamoroso perché praticamente con i fodder ve lo portate a casa gratuitamente e vi piazzate lì a destra un esterno che per me fino alla fine del gioco fino ai tots potete tranquillamente tenere titolare e vi dà magari anche una mano a linkare che ne so se vi siete trovati un Milinkovic o Ronaldo col quale vi trovate particolarmente bene a linkare questi giocatori qua per cui questo Alloway Run per me da esterno assolutamente promosso finalmente il ritorno del predone del deserto ragazzoni anche per questo video è tutto come al solito nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate di questi giocatori vi ricordo che sono in live tutti i giorni sulla piattaforma viola e a me non resta altro che augurarvi una buona giornata e un salutone a vostri Beroschi a presto ciao